Oggi insieme a me vi faccio vedere la nostra prossima apertura e prima apertura al nord Siamo arrivati e ora vi mostro l'esterno, non ancora la città Allora, il locale 1, 2, 3, 4, gira ad angolo 5, 6, 7, 8 e 9 Ragazzi, è un locale ovviamente bello vistoso anche dalla strada Perché è ad angolo con 9 vetrine, 9 punti luci Quindi ben evidente, qui ci sarà uno spazio esterno E un altro spazio esterno qui, quindi oltre ai posti interni ci saranno anche diversi posti all'esterno Ingresso, angolo bar, vabbè angolo, bella bar, stile sempre quello ovviamente, come in tutti i nostri locali Sala, sala, mo non è una sala, però questa sarà tutta sala Qui ancora sala, qui si mangia? No, qui si mangia Qui sarà ancora sala Qui ancora sala E qui reparto pizzeria Nooo, guardate che hanno fatto, guardate che hanno fatto Ora sto vedendo qua E' ricoporzi, non sulla scritta, hanno messo pure la faccia di ricoporzi Allora, vabbè, è proprio ricoporzi I furbi, pure di qua, pure di qua La zona gluten free che verrà qui Quindi con un altro forno a parte E poi cucina e lavaggio Cucina, il lavaggio Vabbè, c'è ancora un po' da sistemare Giù si scende Depositi, spogliatoi Comunque, diciamo che c'è ancora un po' da lavorare Voglio, ma stiamo arrivando Non mi resta che svelarvi dove sarà la prima nostra pettura a nord Anche se qualcuno già sa, già ha capito Ebbene sì, apriremo in via Solari a Milano Ragazzi, all'altro di fronte là abbiamo anche la Montclair Quindi, anche un punto facile come riferimento Il locale sta proprio di fronte Soltanto un poco di pazienza Perché per settembre saremo pronti Via Solari Eccola là Devo fare un'ultima cosa prima di andare via Perché lo mettiamo qua Poi dopo lo sistemiamo Simbolicamente come ho detto a casa Ma queste cose che aggiungono ce l'ho Perché ci siamo la voletà E quindi ci teniamo a queste cose Voglio, chi va male a questa casa A da morire prima che tra Ci siamo rimasti a te Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti